Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Pokémon che potrebbe essere l'ultimo ma andiamo a scoprirlo subito allora dobbiamo andare al lago perchè l'ultima volta abbiamo preso, battuto, battuto preso la medaglia non riesco a passare, sono incastrato ah vedete già si sono spostati i tipetti allora ho preso Riolu nel mentre, ho allenato un altro poi Pokémon perchè dovevo allenare Riolu più o meno siamo lì, il livello massimo è 49 del capopalestra quindi siamo molto 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 tirati, molto molto tirati purtroppo non so come si guarda il grado di amicizia però so che devo appunto arrivare a 100 di amicizia con Riolu per farlo evolvere, quindi dovremmo semplicemente attendere che la raggiunga e poi quando salirà di livello spero abbastanza presto si evolverà andiamo eccoci qua con Spiffo e Giovia ma mia l'acqua è fatta benissimo a parte qualche riflesso strano però non è male il nostro cover of people ok dobbiamo andare appunto ai magazzini ciao Spiffo non sono riuscito a fare niente niente contro Team Galassia va bene quel Pokémon si chiama Uxie sembrava soffrire molto ci dispiace per il povero piccolo Uxie qui in teoria abbiamo un'altra cattura se io uso Surf e credo proprio che lo farò perchè necessito di Pokémon esatto la Guarguzia allora ragazzi guardo su internet cosa possiamo trovare qui e devo dire solo Psyduck e Golduck quindi è inutile rimanere qua ma dirigiamoci a Rupepoli a battere il Team Galassia e salve salve una chiave speciale come ottengo la chiave speciale forse dobbiamo andare nel magazzino o parlare con lui carino mi ha dato la chiave eccola qua voilà nero pietra ragazzi è la svolta utilizziamola subito per fare evolvere Miss Magius oh guardate che bello col suo cappellino finalmente farà anche dei danni bene avventuriamoci non mi ricordo la strada io devo assolutamente schivare più persone possibili saliamo le scalette e si scende oh una bella chiave finalmente torniamo di sopra vediamo un po' sta porta apriti sesamo ah guardate come si apre bene ah ma c'era solo una Pokéball dentro curatina tattica nel mentre ah eccoci qua finalmente vediamo un po' apri di porta ah voilà ah finalmente siamo arrivati alla stanza del boss ah tu sei la natura di cui ho sentito parlare quindi beh forse non saprei tratta di oxy si vorrei liberarli se non le dispiace guardi siccome sono liberi vorrei che continuassero ad esserlo la pietà e la compassione sono frutto di un animo debole mamma mia che cattivo sto tizio ragazzi lei si levi dalle balle per favore ragazzi oh cavolo questo non era previsto però aspetta un attimo non mi ricordavo mi si dà al stesso turno oh la guarda che belli e mo dirigiamoci verso il monte corona ciao a tutti i ed eccoci finalmente giunti alla vetta vediamo un po' allora dobbiamo abbattere queste due reclute ottimo e le reclute sono state battute vediamo un po' cosa succede vediamo un po' palchia mi tipo poco compadrone dello spazio e di alga del tempo oh attenzione eccolo qua palchia quella è la catena rossa e palchia sembra parecchio arrabbiato vedo un driflun all'impianto turbine com'è possibile è per caso il driflun di venerdì si è decisamente arrabbiato il signor palchia che fretta c'è capisco che tu voglia lottare contro il nostro capo ma prima di vedertela con me del resto mi hai già fatto fare diversi figuracci in passato e ci sono anch'io eh vabbè ma è un 2 contro 1 scusate ah eccolo qua il nostro spiffo pronto a salvarci oh mamma ma quel cosa conosce giga assorbimento wait 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 non è possibile non va per niente bene borsa iperpozione curiamolo bene mia pure paralizzata mamma mia 7 bel problema questo ragazzi uno switch tattico potrebbe essere la soluzione però andiamo di Riolu forse avrei dovuto comunque portare Miss Magius non lo so va bene grazie spiffo per aver curato i pokemon adesso ragazzi li mettiamo a Riolu nel box perché è morto purtroppo è arrabbiato decisamente arrabbiato oh 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 sì attenzione e ora dovrebbe esserci anche adelf eccolo qua hanno rotto la catena quindi ora palchi è libero intanto loro se la svignano perché sanno che tra poco la situazione diventerà disastrosa oh è stato un piacere parlare con te devo dire ecco che inizia la lotta ok allora Riolu non lo uso non ho potuto metterlo nel box ma va bene e si chiamava Cyrus vabbè abbiamo solo Quexai e Vermino Hunchcrow mamma mia ma prima non aveva questi pokemon e Hunchcrow se n'è andato ma devo dire che il weevil con fosse è pericchio fastidioso oh gli manca uno sputo per favore dai oh Lucinda c'è anche il professor Rowan ma come vuole sfidarmi eh non voglio sfidarlo sarò sincero c'ho c'ho due pokemon e e manco con le mosse cioè non so se voglio sfidarlo vabbè ragazzi qui li tiro direttamente la masterball e schifo tutto quanto semplicemente perché non ho voglia di di metterli lì a far fuca tanto leggendari non lo posso usare ragazzi vi faccio vedere anche le statistiche di palchia giusto per ma non ci serviranno ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao